ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi che state guardando un'altra simpatica puntatella dei vostri video ossia le vostre collezioni di orologi che ci sbattete sotto al naso mentre noi stiamo lì con la bocca aperta ad osservare noi stiamo lì con la bocca aperta ad osservare ma anche la nostra amica che è sulla spalla guarda 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 il video ma lei la bocca aperta non ce l'ha perché c'è sempre la ricerca della nocciolina quindi è lì così 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 attende così e noi dobbiamo dargli la prima o poi quindi è propedeutica questa questa rubrica qua è propedeutica alla nascita di nuove scimmie speriamo che non figli davvero perché sennò più di una scimmia sulla spalla diventa pesante in tutti i sensi è ecco l'ideale è quello di non incontrarci mai perché se noi appassionati ci incontriamo le nostre scimmie si conoscono si uniscono figliano e poi dopo prolificano e conquistano il mondo è il pianeta delle scimmie è così è nato così il pianeta delle scimmie per gli orologi ora prima di passare ai vostri video diamo un'occhiattina all'orologio del giorno al mio bellissimo long in legend diver 39 millimetri calibro l888 certificato cronometro simpaticamente con due corone perché ha la bag interna girevole per prendere i tempi lo sto utilizzando volentieri al mare anche se devo dire che con la ghiera girevole esterna si fa prima a segnare no io lo sei segno il tempo quando entro in acqua vado a fare il bagnetto track metto sui minuti così controllo e di solito sono un 15 minuti di bagno ma è più o meno quando devo entrare con questo devo svitare la corona girare la bag interna riavvitare un pochino meno intuitivo per contro è più sicuro perché non prende colpi non si gira e non perdo il tempo no poi ogni volta che esco dal mare dall'acqua c'è sempre il problema della salsedine della sabbia la polvere dei residui che si vanno a mettere a filare sotto la ghiera esterna magari tra le maglie del bracciale e in questo caso sui pulsantini di sgancio di sganciamento qua infatti li sentivo ruvidi e sto testando un prodotto un olio particolare per vedere come reagisce come funziona e poi vi farò sapere questo test come come si come si protrae come va a finire adesso basta quei discorsi inutili e diamo un'occhiatella ai vostri orologi ciao davide gabrile da bologna seconda puntata ero tra i centomila a campovolo di reggio emilia comunque una grande serata e in apertura complimenti perché nei tuoi commenti ironia e professionalità si sposano nel migliore dei modi se eravamo lasciati così un seico presage 39 mm quadrante spettacolare che richiama un antico motivo giapponese amp leaf o foglie di canapa effetti di luce davvero notevoli il mio amato longin spirit 40 mm certificato costi e non saranno documenti anzi uno solo è l'unico luminoso come un lampadario di un certo davide cecchini la scimmia però si agita in meno di un anno altri quattro acchiappi all'amico giacomo ho ordinato questo questo piccolo gioiello olis diver 65 38 mm cassa in bronzo che ha iniziato il suo delizioso viraggio bravo cinturino in caucciù molto comodo sul mio polso da 16 e mezzo ci sta la perfezione e sellita sv 200 che lo anima fa più che il suo dovere con scarti accettabili non ho scelto il bracciale in bronzo perché mi sembrava esteticamente eccessivo se mi passi il termine ci sta a seguire ti faccio un po arrabbiare secco prospects a carica solare spittale c'è anche da 39 ma l'ho scelto volutamente con diametro 41 e 4 quadrante azzurro soleil con tre sottoquadranti mi piace molto c'è anche indicatore di riserva di carica ci piace non è un tamagotchi in un'ora di sole e poi dimenticarti di esporlo alla luce per sei mesi per me la precisione di un orologio non è particolare in influente più o meno 15 secondi al mese queste le specifiche grande godimento certo al polso si fa sentire ma il bracciale è solido e comodo bello assai sì il quarto ci sta guardate mi ti vanti dei 15 meno più più o meno 15 secondi al giorno buono bene bravi bis ci mancherebbe altro che con un circuito elettronico dentro non riuscissi a tenere il tempo in maniera decente però se ci pensi ci sono anche orologi meccanici che riescono a fare questa performance di 15 secondi al giorno 15 al mese 15 al mese sono mezzo secondo mezzo secondo al giorno il mio il mio omega de vila ad esempio l'ultima volta che l'ho controllato va variava di mezzo secondo al giorno cioè in dieci giorni era andato avanti di cinque secondi quindi fai 5 diviso 10 mezzo secondo al giorno da più soddisfazione no un orologio meccanico fatto tutto da levette molle ingranaggi pezzetti de ferro e chi più ne ha più ne metta tintintun tuntun tuntun vai prendiamo il tempo cavoli mezzo secondo al giorno sballa poi se voi ci fate ci fate caso anche un orologio che prende 20 più 20 secondi al giorno dice tantissimo provate a fare il calcolo quanto va ad influire su una gara di 100 metri questi 20 secondi al giorno quindi fate 20 secondi diviso 24 non so quanto viene 24 ore viene un tot all'ora poi lo dividete per 60 minuti poi lo dividete ancora per 60 secondi e poi moltiplicate per 10 vedete lo scarto sui 100 metri vedete che è ininfluente cioè potreste misurare i 100 metri con una una gara dei 100 metri piani con una attendibilità elevatissima pur avendo un orologio meccanico che scarta più 20 al giorno più 20 al giorno in quel punto lì diventa l'errore più grande diventa la reazione dell'essere umano al via e allo stop hai capito detto che troppo per l'estate e scorribande al mare ho scelto o meglio ho messo le mani su questo tisso si star 40 millimo rapporto qualità prezzo addirittura 30 bar troppa grazia cinturino a sgancio rapido quadrante blu sfumato con super luminosa riserva di carica fino a 80 ore particolare non secondario il powermatic 80 estremamente preciso scarta in eccesso di un secondo e mezzo al giorno torniamo in giappone per presenti ora un secondo e mezzo al giorno quanti sono al mese è il triplo di quell'altro quello al quarto fa 15 secondi al mese sto qua fa 45 secondi al mese ma tutto meccanico è tutto meccanico cioè vuoi c'è la mascella che dovrebbe fare così in questo caso rispetto a quello al quarzo no vabbè poi facendo il discorso questo qua e si stanno non ho ancora messo le mani sopra sui sister da 40 mm qua è uscito anche il mido ocean star da 39 questo qua si star c'ha il quadrante a corteccia verticale no e invece il mido c'era a onde orizzontali anche quello diciamo tridimensionale sui orologini belli nuovi nuovi sempre della linea ocean star e si star che insomma hanno ridotto le misure vorrei mettere le manine sopra vediamo un po a quale riesco a metterle prima vediamo il mio ultimo invaghimento con lancette kinseiko 38 e 3 bellamente se riesco a inquadrarci decorosamente spessore 11 e 7 quadrante verde spettacolare colpito dalla luce a riflessi davvero molto belli riserva di carica 72 ore con calibro sr 55 partiamo da qui va bene essere prudenti ma i giapponesi esagerano più 25 meno 15 secondo al giorno sarò stato fortunato ma il mio kinseiko in dieci giorni ha guadagnato 18 secondi in tutto ma sono le linee di questo orologio che mi hanno conquistato la ricercatezza dei dettagli che strizzano l'occhio ai fratelli maggiori gran seico certo i calibri non sono confrontabili ma costa cinque volte di meno e fai comunque fatica a trovare punti deboli anche il bracciale è di qualità superiore bravo considerazione finale spizzola non è necessario spendere decine di migliaia di euro per avere orologi validi anche belli esteticamente rock and love e alla prossima alla prossima bella collezioncina di orologi diamo un bel lotto un bel lotto secco che ci ha mostrato degli orologi che ci sono tanto qui a me quel king secoli con lì con il bracciale e che ai finali dritti rispetto alla cassa che sembrava veramente brutalista a me piace molto piace forse più di quegli altri con i finali che vanno ad accogliere la cassa comunque bella collezioncina di orologi anche il king secoli vi ha detto che sono 18 secondi in dieci giorni quindi fa 1,8 al giorno anche sto qua rispetto al quarto che fa mezzo secondo al giorno lo dichiarano in quel caso lo dichiarano magari misuri il quarzo anche me anche meno di però rispetto mi fa più specie mi sorprende di più mi fa comprendere l'impossibilità del tempo con un calibro meccanico tenere quei tempi lì piuttosto che uno al quarto ancora più preciso va bene comunque il lotto te l'ho dato bene bravo bis sei promosso prossimo video ciao davide sono gianluca da pavia e ti faccio i complimenti per il canale grazie ti ringrazio perché hai riacceso in me la passione per gli orologi va bene un po meno mia moglie che qua con me ciao davide ciao cara mannaggia a te michela ciao michela ciao michela quando quando vogliamo incontrarci poi ti spiego il perché il per come di queste cose degli orologi no cercherò di convincerti con le buone però intanto diamo un'occhiatella qua anche al nostro amico che cosa ci ha messo Andy Warhol che non so cosa sia a riguardo della musica un cd i ram che non è che sono tra i miei gruppi preferiti anzi però automatic for the people credo che sia il loro disco migliore quello dove ci sono le canzoni più famose degli anni 90 primi anni 90 ok computer la non so cosa sia Jimi Hendrix la che a me come chitarrista non mi ha mai fatto impazzire i Pink Floyd bravi belli carini ma un po mosci è un pochino da ascoltare prima di andare a letto per addormentarsi come se fosse ASMR è dato anche molta più consapevolezza su ciò che mi piace mettere al polso bravo ti mostro i due orologini di mia moglie questo secco al quarzo carino boh che lei indossa nelle situazioni un po più formali formali e l'altro suo orologino questo Rolex Date 34 mm che utilizza praticamente tutti i giorni e si vede massimo anche lui molto carino un bell'orologio simpatico partiamo con i miei vai l'unico quarzo che ho in collezione oh perché military watch company non è quarzo 300 metri profondità vetro zaffero ma non è quarzo è quarzo utilizzo per il giardino per portare il mio cagnolone in campagna insomma a singhiozzo durante la giornata infatti al quarzo mi mandava benissimo proprio perché era una caratteristica che mi serviva insomma lo suo cinturino nato un bel orologio comunque partiamo con gli automatici va bene mio orologio più vecchio che è un primi anni 90 è un fortis flieger flieger ci piace tutto in acciaio sabbiato una particolarità che si usava in quegli anni che adesso non si usa più ma si usa che ora magari tornerà di moda si monta un neta 28 24 molto preciso un bel orologio e penso che non cambierò mai bravo poi l'orio l'orio anche lui 100 metri di profondità corona a vite astra tra l'altro il nome del mio cane l'abbia preso per quello mi piace all'orologio però diciamo che ha condizionato l'acquisto tra l'altro una curiosità un amico del canale diceva che gli orologi oggi non hanno più il fondello liscio chiuso e invece l'orio fa tutti i fondelli lisci e tra l'altro la casa dà la possibilità di richiedere al costo mi sembra di non vorrei dire una cavolata di 15 dollari l'incisione che noi desideriamo si simpatica come cosa ha una luminescenza particolare perché intorno agli indici a quel quel tutto quello strato intorno agli indici si illumina e quindi molto carino al buio anche alla luce poi questo unimatic quando riesco a metterlo a fuoco eccolo qua era meglio se non ce lo mettevi 300 metri di profondità vetro zaffero corona vite minimale mamma se lita sv 200 ed è dal design veramente simpatico originale particolare a me piace tantissimo se posso utilizzare in qualsiasi situazione sia sportiva che un po più elegante sicuro elegantissimo fatto così poi da eccolo questo col su h10 a letta 28 24 con le modifiche bla 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 bilanciere a vite non a racchetta a vite a racchetta ce l'hai anche tu se il suo cinturino race a me piace tantissimo tantissimissimo poi il mio orologio più bello più costoso ranger che questo tudor ranger col suo movimento di manifattura mt 5402 bello leggibile da un orologio bellissimo portabilissimo ci piace 39 mm perché un posto da 16 e mezzo quindi non posso esagerare con le misure ci sta ci sta veramente un bel orologio piace tantissimo e infine davide cos'è 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 il mio ultimo orologio che è questo nezumi a viera un bel orologio qualità prezzo secondo me eccezionale nezumi avevo recensito a quattro cinque anni fa un orologio che era un cronografo mecca quarti della nezumi bell'orologia sono fatti bene è una persona è uno solo mi ricordo di che in che nazionalità nel nord europa è uno che ha messo su questo micro brand e va avanti in perterrito nel tempo è fatti bene montoni 8 a 90 75 precisissimo come quasi 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 come tutti gli orologi che ho comunque con questo quadrante blu cobalto cobalto particolare certo gmt fondello bellissimo te lo faccio vedere faccio vedere dai almeno sei contento fondello ho detto dov'è il fondello quando ce la faccio eccolo qua stoccolmo ecco stoccolmo tra l'altro una curiosità davide a chi non lo sa se si imposta l'ora del gmt pari all'ora in cui siamo e si direziona la sfera delle ore verso il sole la sfera gmt indicherà il nord e quindi per chi si perde nel bosco e non vuole essere trovato dal lupo insomma lo può utilizzare anche così perché si viene davide un saluto da me e da michela ciao ciao di venirti a trovare via reggio speriamo mi faccia anche una giornata al mare brava vieni vieni ti ribadisco i miei complimenti grazie alla prossima alla prossima ciao 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 stavo cercando ora mi ha confuso michela che quando sento una voce femminile io mi insomma ingazzurrisco sempre un po però va bene così non ti offendere il discorso è della sfera gmt della bussola è che quando perché per calcolare i punti cardinali bisogna prendere bisogna mettere insomma non me lo ricordo bisogna mettere la sfera delle ore verso il sole in questo in quel momento e poi prendere la bisettrice bisogna prendere un'altra un altro punto di riferimento che probabilmente nel caso del gmt va a corrispondere proprio con l'orario di casa e quindi ai sud all'opposto del sommo e mi sono spiegato 7 la tua collezione 7 gli diamo un bel 7 perché sono belli orologi simpatici c'è anche un micro brand hai tutto tutto quello che dicevi che è al quarzo ma mi sembrava automatico perché la sfera girava continua a meno che non c'è un barbatrucco l'unimatic per me è dimenticabile poi c'è un bel hamilton un bel tudor ranger che mi sono dimenticato di dargli il top però è un orologio top e poi il nezumi un 7 dai un 7 un 7 di incoraggiamento e poi mi fa piacere vedere c'è qualcuno che va a cercarsi anche in micro brand un po' meno no l'orario e nezumi ma è fatto bene solo per questo ti potrei dare mezzo punto in più ma non te lo do ti do un bel 7 te lo sei già preso prossimo video Davide sono Matteo 23 anni innanzitutto complimenti per il canale ti seguo sempre con molto interesse ma passiamo alla collezione partendo da questo swatch un orologio mi è stato regalato una decina di anni fa che apprezzo particolarmente per questi suoi contrasti e colori vivaci molto saturati ma certo ci sta poi è particolarmente leggero essendo in alluminio ma ci sta quindi un orologio divertente che spesso viene sempre della swatch omega per swatch capriccio diciamo che mi sono voluto regalare in sostituzione al suo fratello maggiore un orologio però molto leggero comodo da portare in cui io apprezzo a dire il vero il cinturino perché lo trovo molto molto comodo poi passiamo a questo villervetta al quarzo che metto prevalentemente in situazioni un po' più eleganti con questo suo bracciale a chicco di riso ma non è chicco di riso un orologio che apprezzo particolarmente la sua forma ergonomica della cassa è piuttosto sottile che abbraccia molto bene il mio polso a 17 e mezzo quasi non si sente di portarlo noto che avete tutte le scatole che ho io anche l'amico di prima aveva i cuscini marroni anche te hai questa scatola con i cuscini marroni sono delle scatole migliori che ci sono bravo ora poi ho visto lì sotto che c'è anche un libro con scrittori 500 dischi rock più importanti come si fa a fare quelle classifiche lì 500 dischi rock vorrei vedere ne hai lasciato fuori qualcuno sicuramente è sempre difficile fare le classifiche come dare i voti no alle collezioni è sempre un po' così comunque ti ora sta andando malino eh non pensare di sfangarla perché hai preso l'omega per swatch il plasticone in sostituzione del moon swatch del fratello maggiore già lì come concetto è sbagliato ti sei preso un orologio di plastica o un giocattolo utilizzatelo come surrogato di quello reale the real deal cioè no vetro zaffero peccato che sia al quarzo però mi piace molto lo metto spesso citizen eco drive orologio che mi hanno regalato per i 18 anni che non metto spesso poi la batteria ha iniziato a dare un po' di problemi perde circa 5-10 minuti al giorno però comunque ci sono affezionato lo tengo per ricordo a batteria rimane nella scatola batteria è tua nemica seico cronografo tra i primi orologi che mi ha regalato mio padre anche qualsiasi anche qui orologio quindi che ci sono molto legato a cui apprezzo questo suo trattamento opaco grigio porta con sé un bel ricordo e lo metto spesso e volentieri poi citizen eco drive ancora orologio che era di mio nonno che è stato in un cassetto per diverso tempo e che purtroppo ho dovuto cambiare l'accumulatore al momento anche tirando fuori la corona e provando a cambiare l'orario non si riesce quindi dovrei portarlo a far vedere da qualcuno lights in in cursor 200 metri orologio molto solido un lever da 200 metri a cui ho messo questo cinturino in gomma orologio sicuramente non per tutti i polsi essendo da 45 mm lag to lag poi tra l'altro da 24 mamma mia mi piace questo suo contrasto tra il giallo chiaro e gli indici neri l'unica pecca è questa sua corona che è piuttosto affilata e sul polso mi lascia sempre dei segni poverino orologio che però porto volentieri e funziona senza problemi poi passiamo a maurice lacroix orologio al quarzo che è in questa a quarzo ossidata sugli indici brutto eh con questo acciaio e oro placato mi piace molto il datario dei giorni da settimana in italiano e questa sua ghiera di una forma particolare comunque ci sono affezionato è un orologio che porto spesso e volentieri Kaki Field al quarzo purtroppo ma tu te al quarzo con questo suo bracciale in gomma acciaio mi piace molto questa combinazione l'unica cosa è questo copricorone diciamo che ogni tanto si apre da solo ma però fa il suo poi l'ultimo arrivato TSO PRX PowerMatic 80 con il quadrante blu orologio che a mio parere qualità prezzo veramente ottima ha delle finiture davvero ben eseguite il suo bracciale integrato è molto comodo poi apprezzo il fatto che sia molto sottile e quindi fa sembrare un po' più piccolo al polso comunque calza bene questo è quello della versione a 40 mm e sono molto soddisfatto meno male acquisto poi primo orologio comprato con i con i primi risparmi dici Seiko Presage automatico Open Art con questo stile anni 60 style 60 che con vetro zaffero bombato il suo bracciale mi ha sorpreso per la qualità fondello a vista che potevano anche risparmiare però insomma rotore non mi dispiace davvero molto comodo infatti non lo metto adesso Bravo Seiko 5 automatico orologio entry level che mi piace per questa combinazione insomma della della ghiera con questo zighino in natura sui lati vediamo se mette a fuoco e questi accenni di un di un giallo spento di un senape che mi piacciono particolarmente mi ricordano Maurice Lagroix poi Seiko 657 edizione speciale della Fiat degli anni 80 se non sbaglio orologio che ho trovato in un cassetto al quale ho portato da un orologio di fiducia che mi ha montato questo bracciale non originale che è riuscito ad adattare a queste anse particolari da 11 mm un orologio che non metto spesso per la sua leggibilità perché manca di contrasto però insomma non mi dispiace un quarzo mi piace anche mettere lui poi Citizen Echo Drive un orologio tra gli ultimi arrivati Full Loom che è uno degli ultimi modelli di Citizen che pensavo di montare anche con un cinturino giallo comunque divertente colorato per l'estate niente di che comunque mi piaceva e l'ho portato a casa passiamo ai vintage mio nonno Lawrence cui non so molto penso degli anni 60 un orologio comunque che ha fatto questa patina che mi piace particolarmente e non metto spesso però insomma è un bel ricordo di mio nonno certo poi sono ritrovato questa scatola con un bello mio nonno un orologio che è stato due mesi dell'orologiaio per il quale l'ha revisionato completamente ha cambiato il plexiglass originale che mi è stato detto che non si trovano più così con la bolla interna quindi me l'ha messo senza lente magnificatrice un orologio un orologio che adesso va benissimo e poi sono anche riuscito a reperire la sua fibbia originale sempre di quegli anni infatti l'orologio avendo trovato la scatola è del 66 è stato molto interessante anche leggere tutto il libretto dell'epoca per venire poi a conoscenza appunto della data di di questo orologio grazie di tutto love 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 bello 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 mi cogli impreparato cioè il plexiglass originale aveva la lente magnificatrice mi sembra strano ci saranno si l'avranno fatti mi sembra strano vabbè poi c'è la scatola e tutto però poteva averlo capito anche il nonno magari ripeto lente magnificatrice e te ce l'hai messo normale io avrei lasciato ammesso che quello con la lente magnificatrice è quello originale io avrei lasciato quello originale rovinato per rovinato quei graffietti però io me lo voglio tenere originale lo so che ce l'hai da parte però io ce l'avrei voluto sopra non ce lo metto un altro vetro nuovo scintillante che non che non ha la lente magnificatrice sempre ammesso che è quel modello originale bravo bello con quest'ultima butata era giunto il 6 perché se no mi hai fatto vedere tutta una serie di orologi i quarzoni quarzoni fallati quarzoni zoppicanti che non funzionano che smettono di funzionare orologi brutti come il Maurice Lacroix quarzon che era brutto veramente che non si poteva guardare poi ti sei salvato con il PRX lì ho visto la luce PRX automatico a 40 mm per poi ricadere di nuovo vabbè il 6.5 è carino anche quello lì per poi ricadere di nuovo nel Citizen Eco Drive ad accumulatore no accumulatore meno male poi c'è anche un paio di 20 c'è un bel 6.1 comunque l'importante è che ti piaccia a te poi voglio dire io i voti li do in base ai miei gusti Eco Drive quarzoni che non funzionano non fanno per me prossimo video ciao Davide ciao sono Carlo Carlo ho 29 anni ti mando questo video da Monza anche se ho vissuto fino a un paio di anni fa a Caserta e ti faccio vedere la mia collezione di orologi vai questo Timex mi è stato regalato da mia sorella quando ho fatto da testimone al suo matrimonio è un quarzone mi è stato regalato all'incirca 10 anni fa e si può vedere che è molto graffiato è stato molto utilizzato meno male qualcosa è servito anche se comunque all'epoca non avevo una vera e pova passione gli orologi mi sono sempre piaciuti ma li ho sempre visti un po' come orologi inutili in quanto l'ora si leggeva è certo funziona così dal telefono quindi dopo un paio di mesi l'ho ho accantonato l'oroggeria ah bravo un annetto fa ad agosto 2023 diciamo che gli orologi hanno cominciato a piacermi e mi sono compato a sfizio questo swatch ah bravo molto leggero un orologio a batteria come dici tu di plastica nulla di eccezionale però è bello mi piace l'oroggio è abbastanza versatile l'ho utilizzato spesso al mare l'ho utilizzato tuttora quando vado in palestra al mare unica nota negativa è il fatto che sia veramente rumoroso molto molto rumoroso ma è una caratteristica di tutta la tipologia di swatch comunque successivamente mi sono comprato dopo quindici giorni dallo swatch mi sono comprato questo casio eccolo lì un orologio semplicissimo al quarzo anche se riprende i dettagli della nota marca blasonata che ho scoperto poi più avanti tramite il tuo canale un po' i suoi modelli ed è proprio per questo motivo che lo indosso molto meno spesso perché non mi fa impazzire l'idea di avere un orologio che riprende un po' le caratteristiche estetiche di altri più blasonati diciamo i cosiddetti homage ma non è una copia dai non è un homage questo swatch invece mi è stato regalato da mio fratello quando ho fatto da padrino a suo figlio a mio nipote il primo automatico e anche questo è uno swatch di plastica molto molto semplice in un radio eccezionale molto sportivo lo metto veramente poco infine guardando i tuoi video e ho iniziato a capire un po' meglio le marche gli orologi un po' più diciamo importanti le marche per cui vale la pena spendere qualcosina di soldi in più e ho preso questo Hamilton bello il Mark questo l'ho visto per la prima volta nel film diciamo non sono un fan del film il film mi è piaciuto molto ma non sono un vero e proprio fan lo vedi nel film mi piace tantissimo vedi la tua recensione e dopo averla vista l'ho comprato il cinturino nero lo tengo da parte ci ho messo questo qua nocciola marrone perché lo rende molto più sportivo molto più diciamo indossabile il movimento H10 classico e diciamo che gli antiriflessi considerando anche con quel prezzo potevano essere sicuramente migliori e infine meno di due settimane fa ho comprato questo tubo il 226 da 39 mm un orologio bellissimo devo dire ho scelto questo modello perché in primi l'ho visto la prima volta in un gruppo telegramma di mercatini mi sono informato ho visto la tua recensione e poi dopo averlo tenuto un po' sotto d'occhio l'ho comprato a listino e devo dire è un bellissimo orologio il quadrante è eccezionale bello si lo metto con grande piacere e e basta questo e basta il bracciale è spettacolare e devo dire mi ritengo abbastanza fortunato perché questo è l'unico tutor per cui veramente ho presso la testa perché gli altri comunque sono riprendono un po' le fattezze di Rolex questo invece mi sembra più personale più unico più unico ecco diciamo così attualmente non sto puntando a nessun orologio bugiardo vedrò quello che mi piacerà e lo prenderò mi manca un diver magari prenderò un citizen pro master per l'estate ti ringrazio ancora spero pubblicare il mio video lo pubblichiamo lo pubblichiamo saluti ciao dai un paio di swatch un caso al quarzo un altro caso un timex al quarzo poi vabbè abbiamo il bel tudor il bel emilto diciamo dai un 5 e mezzo ti do a qualcuno l'insufficienza devo dare ora mi capiti te che ho con l'insufficienza te mi sfogo con te anche se con gli ultimi due hai rialzato però due su sei siamo diciamo una percentuale un po' bassina ti do un 5 e mezzo il tudor 1926 è lì non ho capito che diametro di cassa è però a vedere della data non vorrei fosse il 42 o il 41 c'erano 39 quella quella lì bianco con gli accenti blu era perfetto lo scelsi proprio perché tra tutti i tudor che ci sono è insomma un pochino quello che non va a scopiazzare no scopiazzare a prendere ispirazione da mamma Rolex è quello che può anche se poi quella quella configurazione lì è veramente trita e ritrita cioè negli anni 60-50 gli orologi fatti così con le sfere a foglia e con i numeri arabi al pari e gli indici ai dispari erano all'ordine del giorno ma anche al giorno d'oggi basta guardare il longin record quanto assomiglia questo no era proprio proprio è proprio la banalità fatta a persona diciamo ce l'avevo anch'io mi piace e continua a piacermi cioè mi piacerebbe anche averlo addirittura adesso cioè nonostante io l'abbia venduto per qualcos'altro non mi ricordo cosa e poi il Murph è preso quello da 42 mi sa è preso quello da 42 cioè anche da da 38 adesso e niente è un 5,5 5,5 è da poco che collezioni che sei in questo ambiente quindi non me ne vorrai è vero mi perdonerai dai asciubietta sulla tua spalla deve ancora e deve ancora svilupparsi è ancora nella fase quella adolescenziale non è ancora matura ma vedrai che quando cresce ti darà le sue soddisfazioni te lo dico io ciao Davide ciao Luca da Milano Luca innanzitutto complimenti per il canale sempre per i video divertenti da vedere interessanti allora velocemente ti faccio vedere la mia piccola collezione di orologi allora partiamo da ecco noi bravo bello azienda italiana mi pare che qualcosa avevi detto anche tu mi piace molto non ho preso il crono perché mi piaceva di più questo qui più semplice un po' più vintage poi simpatico mi piace simpatico oris oris questo qui è quello con il quadrante madreperla bello questo molto bello mi piace molto perché come sai ogni quadrante è diverso la ghiera acciaio mi piace anche quel tocco di personalizzazione in più ghiera molto bella molto precisa mi ci trovo molto bene estivo ma elegante bravo estivo ma elegante poi ultimo arrivato cavoli questo non mi piace l'acqua racer tanto tanto mi piace questo a me questo orologio fa impazzire soprattutto il quadrante blu con queste sfumature qui ha il sellita sv200 come gli altri probabilmente il prezzo elevato è dovuto al brand però il quadrante è favoloso tanta roba mi piace tantissimo poi continuando sul blu PRX molto molto venduto a me piace indossarlo ogni giorno questo qui si ce l'hanno tutti c'è anche quello di prima ci trovo molto bene certo altro Oris bello due acqui sai questo qui è quell'edizione fatta con il quadrante con la plastica riciclata quindi ogni orologio è diverso i colori sono diversi a sfumatori di colore molto particolari anche con questo qua mi ci trovo molto bene certo e mi piace molto vabbè questo è il primo orologio insomma che mi hanno regalato lo tengo più che altro per ricordo una ventina di anni li ha tutti e poi per concludere eccolo qua il mio orologio da battaglia il cacchi feel king questo qui lo metto praticamente tutti i giorni e mi trovo benissimo vabbè e poi ho anche questo caso molto particolare ci piace questo con i tastini ci piace un abbraccio a presto come sei stato veloce un abbraccio a presto e niente è una bella collezione una delle poche persone non credo di averlo mai visto che ha due oris aquis cioè due uno mi dice ti piace oris va bene mi piglio un aquis mi piglio un diver 65 oppure mi piglio qualcos'altro anche un propilo se ne fanno così tanti no due oris aquis è particolare come scelta la collezione è bella pochi orologi ma tutti centrati tutti centrati a parte il doppione però nulla nulla ti vieta di voler collezionare oris aquis per tutta la vita avere 50 tutti i colori tutte le gear poi ci sono anche le varie misure 39 42 poi c'è il tagoier aquarese che mi piace tantissimo quel quadrante blu la ghiera così è proprio bello il tagoier aquarese quella versione lì cosa c'avevi poi oris oris il tagoier il kaki king che ci piace anche quello lì come orologino e poi il prx e l'eco neutra che insomma c'è poco da dire un micro brand valido che dimostri anche di saper spaziare di qua e di là è il prx che c'erano tutti è il daily watch che tutti quanti vorrebbero avere e che nessuno può avere scherzo non c'erano tutti il voto te l'ho dato la collezione non me lo ricordo più l'ho dato il voto un 6 e mezzo un bel 7 tondo non mi ricordo se l'ho dato il 7 tondo dai comunque sei più che promosso e sei più che sulla buona strada altro che dai ragazzi io direi che la possiamo anche finire qui perché devo andare a vedere i gattini su instagram che mi stanno aspettando sono tutti lì che stanno per scattare come delle molle quando mi vedono iniziano a fare i movimenti per rilassarmi e per intrattenermi vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao